bentornati con questo nuovo video finalmente ricevuto il telefono nuovo mi siete mancati però anche youtube mi è mancato quindi ragazzi oggi vi ho portato un bellissimo gioco bellissimo e bellissimo e bellissimo gioco che si chiama ss2019 dopo vi faccio vedere e bellissimo se lo volete scaricare scaricatelo e niente dai non ci perdiamo in chiacchiere andiamo a giocare con questa partita come vedete noi siamo la carrerise siamo primi con 43 punti e niente poi per ultimo c'è proprio come questa squadra di pro per meno male che siamo pro vabbè quando mi siete mancati iscrivetevi al canale attivate la campanellina i video escono ogni giorno non proprio ogni giorno non proprio però ogni pomeriggio ogni pomeriggio attenzione no raga che tiro di merda ogni pomeriggio iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace e continuate nel frattempo cerco di fare un gol si sapevano che non ci riuscivo allora raga la voglio vincere per voi si avete capito bene la voglio vincere per voi vabbè finisce il primo tempo vabbè 14 su 12 che perdiamo gol grandi raga perché forse vi siete iscritti al canale perciò hanno segnato qualcuno si è iscritto al canale allucinante grazie no ti prego non segnare all'ultimo tutto la passo a questo no but perché dai raga comunque un gioco bellissimo raga ragazzi scusate un attimo il mio compagno che mi stava chiamando ma dai allora comunque qualcuno si è iscritto perciò sono perciò hanno segnato loro comunque davvero bello però ho sbagliato a tirare mannaggia perché sto distratto vabbè abbiamo vinto 1 a 0 grandi grazie un bel mi piace per un gol ogni gol un mi piace ok continuiamo a lui contro 16 incontri ok quanti incontri mancano 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 altri 16 incontri oppure eh ho fatto già 16 incontri raga allora vediamo provercelli raga continuo a stare un attimo cioè continuo a stare nella nella carraresa poi finisco il campionato wow grazie raga grazie per tutto il supporto che mi date ok dobbiamo giocare contro la varise mamma mia eh vabbè vincerà lei ci vince 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 lo faccio passare in mezzo sì ragazzi vediamo se voi vi siete iscritti al canale sì grandi raga grazie lasciate un bel mi piace no ragione chi è che si allora nooo ma cosa 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 allora ehm vabbè raga come tiro qua c'è questo c'è questo qua questo se la chiama proviamo grande nooo vogliamo vincere e vogliamo vincere e noi vogliamo e noi vogliamo e noi vogliamo e noi vogliamo vincere vogliamo vincere e vogliamo vincere finisce il primo tempo uno a uno parte subito il Varese attenzione però Martinelli la passa a questo cristiano con il numero 5 un'altra volta Martinelli la passa a quel cristiano con il numero due mi sembra perché gulla gran gulla nel numero due però attenzione G balta un'altra volta ecco che Martinelli per il numero 4 dalla palla grande passaggio attenzione no raga interrompete allora raga cosa faccio raga ci provo si all'ultimo secondo però si segna mi cazzo abbiamo vinto no raga l'ho vinto grazie a voi l'ho vinto grazie a voi comunque seguite anche il mio cugino 6123 su youtube che vi esce the brothers mi chiama bro no no anzi bro staccato ders mi sembra ha cambiato nome seguitelo ok però seguitemi anche su instagram ok